Domani parliamo di pallavolo alle 17 al Palapanini playoff scudetto della Leo Schus che ospita Ravenna nella gara d'andata del turno preliminare Andrea Gianni avrà a disposizione anche la Via e Rinaldi che però non sono al meglio della condizione sentiamo il tecnico giallo-blu alla vigilia della sfida con Ravenna Siamo già entrati siccome nel periodo più importante della stagione partendo dai quarti di Coppa Italia semifinali di Coppa Italia, il giugno di ritorno della Champions e adesso iniziano i playoff, quindi partite particolari sempre difficili da affrontare ma sono quelle partite che vogliamo giocare Ravenna è una squadra che ha fatto una buonissima season con tanti ragazzi giovani, con i nostri finali in campo quindi è una partita da playoff dobbiamo entrare secondo me nel clima del playoff anche perché subito dopo avremo l'andata dei quarti di Champions quindi è una partita importante non soltanto sotto l'aspetto agonistico del risultato ma ci deve servire anche poi per la partita successiva contro Perugia Noi siamo in questi ultimi due mesi cresciuti tanto dobbiamo secondo me essere continui nel senso che abbiamo avuto soprattutto nel giro di Champions qualche basso dobbiamo imparare anche nelle situazioni dove il gioco non è perfetto a stare in campo quindi conosciamo e siamo consci della nostra forza però dobbiamo anche imparare un pochettino a contenere questi bassi grazie grazie grazie